A Natale, regala il calendario geniale. È il dono ideale per sorprendere amici, colleghi e parenti. La scatola è perfetta come confezione regalo, con anche lo speciale spazio per scrivere una dedica personalizzata. Il supporto in legno di abete biologico naturale valorizza il calendario vintage in carta ecologica, rendendolo un oggetto di design adatto a ogni ambiente lavorativo e familiare. A Natale, regala il calendario geniale da leggere ogni giorno per cogliere in un attimo la saggezza senza tempo di frasi profonde, ironiche e motivazionali per la tua crescita personale e per incoraggiarti a essere chi sei veramente. Sorprendi amici e parenti con un regalo creativo e originale. A Natale, regala il calendario geniale. A Natale, regala il calendario geniale.